Armato di coltello da cucina ha fatto eruzione in una parafarmacia cercando di portare via l'incasso di giornata. Un colpo che sarebbe anche riuscito se non ci fosse stato l'intervento di un poliziotto che è riuscito a mettere in fuga il malvivente. E' accaduto a Trani dove un ragazzo ancora minorenne è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale. Si tratta del responsabile di un tentativo di rapina ai danni di una parafarmacia nel centro cittadino. In base alla ricostruzione fatta dai poliziotti il giovane impugnando un grosso coltello da cucina è entrato nell'esercizio commerciale minacciando e pretendendo dal titolare la consegna del denaro contenuto nel registratore di cassa. Ma per sua sfortuna tra i clienti presenti in quel momento nel negozio c'era anche un agente libero dal servizio in forza presso il commissariato di San Severo che assistita alla scena è immediatamente intervenuto impedendo al ragazzo di mettere a segno il colpo. Nel tentativo di scappare il rapinatore ha anche cercato più volte di ferire il poliziotto fortunatamente senza riuscirci per poi allontanarsi per le vie limitrofe. Una fuga durata non più di qualche centinaio di metri sino a quando il giovane malvivente è stato intercettato da una volante del commissariato e tratto in arresto. Il ragazzo si trova adesso nell'istituto penale per minorenni Fornelli di Bari dovrà rispondere di rapina aggravata.